Maxi operazioni antidroga tra Salerno, Cosenza e Trento, custodia cautelare per 38 soggetti. Gastroenterologia, il dottor Marmo e il dottor Mandia chiariscono i dubbi, nessun ritardo nelle attività, istituito il numero 0975373242 per eventuali consulti. Elezioni al voto a fine settembre, approvato l'emendamento che chiude alle proposte delle regioni, tra i comuni al voto si aggiunge Polla. Sant'Arsenio riapre il mercato settimanale da venerdì 12 giugno. Sanza, limite di 30 km orari e rallentatori di velocità in diverse strade comunali. Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca Maxi operazione antidroga all'alba di oggi. Carabinieri del comando provinciale di Salerno con i militari del settimo nucleo elicotteri di Ponte Cagnano e del nucleo cinofili di Sarno hanno eseguito dei provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di 38 soggetti nelle province di Salerno, Cosenza e Trento. 16 persone sono finite in carcere e 22 ai domiciliari nell'ambito dell'operazione denominata Prestigio. Tutti indagati per associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente. Il nome prende spunto dal vertice dell'organizzazione criminale che è Ciro Persico. Ciro Persico che in più di una circostanza è stato indicato dai suoi gregari come il capo indiscusso e che affermasse questa sua qualità non tanto e non solo per l'affermazione economica quanto per il prestigio e l'ascendente che lui voleva necessariamente mantare nei confronti dei suoi affiliati. E questo lo rileviamo in una circostanza particolare che è quella della consegna a mo' di dono, a mo' di iniziazione di alcuni suoi gregari per l'ingresso nel suo clan di un fucile a Cannemozza. Cannemozza che però non riesce ad arrivare a destinazione perché è sequestrato dai carabinieri lungo il percorso. Si diffondeva tantissimo nel centro storico, chiaramente dove c'era un via vai di acquirenti e anche negli altri quartieri che abbiamo indicato, in particolare il quartiere di Mariconda, il villaggio dei Puffi e anche in altre zone che andavano anche al di fuori della città di Salerno. Come accennavo prima, speriamo di aver contribuito quantomeno al miglioramento di una forma di degrado che affliggeva il centro storico di Salerno e che è stato spesse volte posto all'attenzione sia delle autorità locali che della carta stampata e dei mass media. La disponibilità di sostanze stupefacenti era particolarmente ingente. Considerate che tutto ciò che non è stato sequestrato è stato poi smaltito, è stato venduto, è stato ceduto ed è stato spacciato. Quindi parliamo di grossissimi quantitativi di sostanze nella disponibilità del clan e abbiamo ipotizzato, abbiamo stimato un fatturato medio giornaliero di circa 4.000 euro. Diciamo che il suo spessore criminale è evidente ed è un fattore di fortissima aggregazione rispetto a tantissimi altri affiliati che hanno visto in lui un elemento per vantare anche un blasone dell'organizzazione criminosa. Ne riscontro il fatto che stesso lui con alcuni suoi fidati e gregari a contrattare ed avere l'assenso con alcuni esponenti del clan De Feo di Bellizzi all'espansione del mercato dello spaccio ad Acerno e a Montecorvino Rovella. Quindi ha una forte personalità e che non ha reso facile l'attività di indagine che abbiamo condotto. L'attività di indagine si ferma a prima dell'emergenza Covid. È chiaro che abbiamo monitorato anche in questo periodo di fermo, soprattutto per comprendere quali fossero le eventuali dinamiche criminali assunte nel frattempo. Il mercato della droga è un mercato che è veramente pervasivo di tutta quanta la società e pervasivo anche della città di Salerno e di tutta la provincia. E ancora cronaca, ieri mattina presso c'è stata una rapina a Padula in località Tempone verso il centro storico del paese. Un soggetto italiano, stando alle ricostruzioni fatte, entrato in una tabaccheria con il volto coperto e armato di pistola con cui ha minacciato la ragazza che era di turno in quel momento. Erano circa le 6.30 del mattino. È riuscito a farsi dare una bella somma, circa pare 2.000 euro, probabilmente l'intero incasso del fine settimana. Il rapinatore è poi fuggito. Intanto i carabinieri della compagnia di sala Consilina sono al lavoro con indagini serrate per dare un volto al rapinatore, sono sulle sue tracce. Ma andiamo avanti, cambiamo argomento. Il reparto di gastroenterologia del Luigi Curto di Polla prosegue regolarmente con la sua attività. Nessuna chiusura del reparto. A darne notizia il dottor Riccardo Marmo, responsabile del reparto, e il dottor Luigi Mandia, direttore sanitario del Luigi Curto, che comunicano anche l'istituzione di un numero telefonico per il consulto medico. Stop ai timori di chiusura del reparto di gastroenterologia a Polla. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia di una chiusura dell'unità operativa diretta dal dottor Riccardo Marmo. Una notizia che aveva provocato non pochi allarmismi tra i pazienti che temevano di non poter più ricevere adeguata cura e assistenza sanitaria presso il reparto. Nulla di tutto ciò. A porre definitivamente la parola fine sulla questione arriva il chiarimento congiunto da parte del responsabile del reparto, il dottor Riccardo Marmo, e del direttore sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla, il dottor Luigi Mandia, che con una nota congiunta sottolineano come le attività cliniche di endoscopia digestiva non sono mai state interrotte con i degenti presso il presidio ospedaliero pollese che proseguono regolarmente il percorso terapeutico e diagnostico senza subire ritardi. Parole tranquillizzanti che confermano quanto emerso già e che evidenziavano come il reparto, come gran parte dei reparti presenti nell'ospedale, al momento dovevano necessariamente essere soggetti al lavoro di adeguamento nell'ambito delle nuove normative anti-covid previste. I pazienti che necessitano della continuità diagnostica e terapeutica già programmata presso la gastroenterologia di Polla, dichiarano il dottor Marmo e il dottor Mandia, non subiranno alcun rivio o ritardo. L'attività procederà come programmato. Inoltre, aggiungono, per i pazienti che attendono di accedere alle visite con l'impegnativa del curante, si comunica che esse riprenderanno in coerenza con la ripresa delle altre attività ambulatoriali del presidio di Polla. Nella nota chiariscono anche motivi che hanno imposto la sospensione dell'attività di endoscopia digestiva, che, comunicano, è stata sospesa nella fase dell'emergenza a seguito provvedimento legislativo finalizzato a garantire la sicurezza delle prestazioni sia per il personale medico che per gli utenti, e riprenderà non appena saranno completati i percorsi previsti dalle norme per l'epidemia covid-19. Una decisione nota anche perché nei giorni scorsi il dottor Marmo, nel suo ruolo di presidente dell'Associazione Sani, aveva anche reso noto il proseguo del servizio gratuito uno specialista per te, a cui hanno aderito numerosi responsabili dei reparti dell'ospedale Luigi Curto di Polla per sopperire ai limiti imposti dall'emergenza coronavirus, garantendo comunque il consulto medico. In attesa quindi che gli ambulatori del Luigi Curto possano riprendere regolarmente le attività, resta attivo fino alla fine di giugno il servizio gratuito dell'Associazione Sani. Inoltre il dottor Riccardo Marmo fa sapere che è stato istituito un ulteriore servizio. Telefonando al numero 0975 373242, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, è possibile ricevere un consulto medico telefonico e ogni tipo di informazioni o comunicazioni inerenti al proprio stato di salute. E si fa largo l'ipotesi di elezione negli ultimi giorni del mese di settembre. L'approvazione di un emendamento che vieta il voto prima del 15 settembre chiude alle proposte delle Regioni. Al voto per il rinnovo dei consigli comunali nel Vallo di Viano, anche Polla. Con l'approvazione dell'emendamento proposto dal forzista Francesco Paolo Sisto, ieri nella Camera si chiude definitivamente la possibilità di elezioni estive per il rinnovo dei consigli regionali e comunali e per il referendum. A questo punto si potrebbe parlare infatti di ritorno alle urne non prima del 20 e 21 settembre, prima data utile vista l'approvazione dell'emendamento secondo cui non è possibile recarsi alle urne prima del 15 settembre. La proposta gode del favore del governo giallorosso che ha votato a favore, mentre nel centrodestra la Lega si è astenuto mentre si è registrato il voto contrario di Fratelli d'Italia. Esclusa così anche l'ipotesi di presentazione delle liste a ridosso del ferragosto come richiesto da alcune regioni che proponevano elezioni a fine luglio oppure nei primi giorni di settembre tra il 6 e il 13. L'emendamento cancella tale ipotesi. Resta ora da stabilire la data che a questo punto si riduce a tre possibili ipotesi onde evitare di ritrovarsi in una condizione di nuovo stop a causa di una ipotetica ripresa dei contagi. Non è escluso il voto nei giorni del 27 e 28 settembre. Nei primi giorni di autunno elettori campani alle urne quindi per il rinnovo del Consiglio regionale e in alcuni casi per il rinnovo dei consigli comunali. A sud del Salernitano si vota in sei comuni a cui si è aggiunto anche il comune di Polla a seguito del decesso del sindaco Rocco Giuliano. Nel golfo di Policastro rinnovo dei consigli comunali a Ispani, comune attualmente retto da un commissario a seguito dello scioglimento dell'amministrazione guidata da Marilinda Martino e a San Giovanni Appiro. Alle urne nella Valle del Calore e negli Alburni, i comuni di Laurino e Sant'Angelo a Fasanella. Per il Vallo di Diano cambierà la guida del paese in tutti e tre i comuni al voto. Per ciò che riguarda Polla, purtroppo la morte del sindaco Rocco Giuliano, ieri ricordato anche in Consiglio provinciale, impone richiamo alle urne per gli elettori che dovranno scegliere un nuovo sindaco. Cambio alla guida del paese anche a Sassano e a Pertosa, dove sia Tommaso Pellegrino che Michele Caggiano non possono ricandidarsi avendo ricoperto l'incarico per due e tre mandati consecutivi. Stabilito l'ordine di spoglio delle schede. Si parte dal referendum, laddove si decida per l'Election Day, ancora non scontato, e in rapida successione lo spoglio per le regionali. Rimandato a martedì lo spoglio delle schede per le elezioni comunali. E riapre il mercato settimanale a Sant'Arsenio. Si ricomincia venerdì 12 giugno con tutte le misure di sicurezza stabilite dopo l'incontro. Tra il gruppo di opposizione si cambia al fianco degli ambulanti e il sindaco Donato Pica. Riapre il mercato settimanale del venerdì a Sant'Arsenio. È quanto stabilito in un'ordinanza sindacale firmata dalla primo cittadino Donato Pica, nella quale è specificato che il mercato ripartirà venerdì 12 giugno negli spazi antistanti la piazza Domenico Pica, per tutte le categorie merceologiche, alimentari e non, nel rispetto del protocollo di sicurezza antidiffusione SARS-CoV-2. Nell'ordinanza vengono anche specificate le misure e le cautele da adottare per la riapertura. È necessaria l'attivazione di due corridoi di transito, uno per l'entrata e l'altro per l'uscita dall'aria non inferiore a 2,40 m. I banchi di vendita dovranno rispettare la distanza di 1,50 m tra un posteggio e l'altro, mentre gli operatori commerciali e gli utenti dovranno utilizzare guanti usa e getta e mascherina. Inoltre, gli operatori dovranno assicurare agli utenti l'accesso a sistemi per la disinfezione delle mani, soprattutto accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. I titolari delle aziende mobili e loro collaboratori potranno servire uno o più clienti purché sia garantita la distanza interpersonale di un metro. Al fine di evitare gli assembramenti, l'accesso all'aria mercatale sarà contingentato, con il controllo ai varchi di entrata ed uscita, modulando l'ingresso, compresa la zona di attesa. Secondo il criterio, tante persone escono, tante ne entrano, e non superando il numero massimo consentito fissato dalle linee guida regionali di una persona per ogni 4 metri quadri. È stabilito il diritto di precedenza nella zona di attesa per le persone diversamente abili e infine gli utenti saranno informati delle misure adottate con dei cartelli all'ingresso e all'uscita dell'aria. L'ordinanza sindacale è arrivata dopo che due giorni fa il gruppo di opposizione si cambia, si era schierato al fianco degli ambulanti che chiedevano la riapertura del mercato settimanale, riuscendo ad ottenere un incontro con il sindaco e la promessa della ripartenza dal 12 giugno prossimo. Giovedì 11 giugno alle ore 19 sarà presentato in conferenza stampa il progetto che vede come ente capofila l'istituto comprensivo di Teggiano diretto dalla preside Rosaria Murano. Il progetto è destinato ai bambini e sarà ampliato dal lavoro in presentazione del ballo di classe. Sarà presentato giovedì 11 giugno il progetto dedicato ai bambini e che prevede l'iscrizione a corsi di formazione e aggiornamento per i quali è stato già pubblicato il bando per l'iscrizione sul sito dell'istituto comprensivo di Teggiano. Alle ore 19 presso la sede centrale dell'istituto comprensivo di Teggiano nel centro storico medievale si terrà la presentazione ufficiale del progetto LS 7.1 azione di supporto specialistico a vantaggio dei bambini e ragazzi migranti e dei minori non accompagnati che rientra nel piano di sviluppo del più ampio progetto di strategie delle aree interne del Vallo di Diano. Presso la sede del plesso scolastico di Teggiano qual'istituto capofila del progetto che coinvolge tutti gli istituti comprensivi ed omni comprensivi del Vallo di Diano a partire dalle ore 19 la dirigente scolastica la dottoressa Rosaria Murano quale referente del progetto insieme al dottor Raffaele Accetta presidente della comunità montana Vallo di Diano ente promotore del programma di sviluppo promosso da strategie delle aree interne illustreranno le fasi dell'intervento rivolto in primis ai bambini sono infatti i propri piccoli alunni delle scuole valdianesi principali attori del progetto i bambini sono posti al centro delle attività e daranno vita al portale il Vallo di Classe che rappresenta la conclusione della fase progettuale ma anche l'avvio di un nuovo strumento permanente di valorizzazione e promozione del territorio della sua storia della sua cultura in funzione di una crescita umana ed economica bocciato il piano industriale presentato da Arcelon Mittal intanto anche a Salerno i lavoratori ex silva erano in protesta come in altri stabilimenti in Italia mentre a Roma c'era l'incontro tra i sindacati e i ministri di sviluppo economico economia e lavoro vediamo i dettagli una bocciatura totale quella che arriva dal vertice governo sindacati sul piano industriale presentato una settimana fa da Arcelon Mittal mentre stamani anche a Salerno come in tutti gli stabilimenti i lavoratori hanno attuato uno sciopero a Roma in concomitanza si svolgeva l'incontro fra CGL Cisle Willi e i ministri dello sviluppo economico Patuanelli dell'economia Gualtieri e del lavoro Catalfo dove si è registrata una grande assenza proprio quella del gruppo Arcelon Mittal il presidio di stamani a Salerno dinanzi ai cancelli dello stabilimento della zona industriale è stato accompagnato dai forti timori dei lavoratori oggi in cassa integrazione dopo la diffusione di voci che annuncerebbero 3.300 esuberi la proposta del piano presentata ad Arcelon Mittal è inaccettabile per due ragioni mette in discussione i livelli occupazionali e il piano di investimenti allungandone a dismisura il tempo di sicuro il Covid ha inciso sull'economia globale ma l'accordo del 4 marzo era sostanzialmente diverso è assurdo quello che sta accadendo ci ritroviamo all'ennesimo cambio di piano industriale in meno di due anni siamo partiti dal accordo di settembre del 2018 che prevedeva zero esuberi e la riassunzione di tutti i lavoratori che erano in amministrazione straordinaria alla fine del percorso successivamente già l'anno dopo sono stati dichiarati 5.000 esuberi nel 2019 e oggi ci ritroviamo per la terza volta a sentire di nuovo di parlare di piano industriale che tratta tutto fuori che lo sviluppo degli stabilimenti e della produzione c'è stato alcun rilancio ci siamo fermati il 24 marzo a causa della covid facendo tutte 5 le settimane di cassa integrazione ne sono state richieste altre per covid in scadenza a giugno e già sono state richieste altre 13 di cigo alla scadenza successiva quindi non c'è proprio prospettiva di ripresa e volontà di ripresa soprattutto noi siamo all'oscuro di ciò che è stato già detto al governo però è trapelato che ci saranno 3.000 esuberi in tutto il gruppo e quindi c'è attenzione da parte dei lavoratori perché non si sa in che modo sono distribuiti e non si vede proprio una via di uscita in termini di crescita ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità bentornati in studio venerdì 12 giugno alle ore 18 a San Pietro Altanagro è stata convocata in sessione straordinaria una seduta del Consiglio Comunale si discuterà di scuola secondaria di primo grado modifica del regolamento del forum dei giovani locale e recepimento della carta europea proposta di modifica del regolamento di polizia cimiteriale consorzio centro sportivo meridionale a conto Imo 2020 la seduta è chiusa al pubblico fa sapere il presidente Antonio Pagliarulo andiamo avanti risparmiare con regolarità anche un piccolo importo ogni mese è una scelta che ti permette di guardare al futuro con più serenità dicono dalla Banca Montepruno che consiglia di guardare al futuro con più serenità attraverso un piano di accumulo la Banca Montepruno intende promuovere la formula del risparmio con regolarità attraverso il piano di accumulo che prevede l'investimento periodico di importi stabiliti dal risparmiatore e consente di ridurre il rischio legato ad un investimento in un'unica soluzione permettendo a lungo termine di ottenere una crescita più stabile e di trasformare in opportunità le fasi di discesa dei mercati risparmiare con regolarità anche un piccolo importo ogni mese è una scelta che ti permette di guardare al futuro con più serenità iniziare subito con un PAC è una scelta che aiuta a garantire a se stessi e alla propria famiglia un futuro sereno assicurano dall'istituto di credito diretto da Michele Albanese con il PAC NEF spiegano puoi decidere con la massima flessibilità quanto investire ogni mese e anche se sospendere per un periodo il versamento senza alcun costo ha alcune caratteristiche che vanno sottolineate premio alto rendimento 2019 è tra i migliori fondi in Italia e continua il supporto a Save the Children tra i diversi fondi a disposizione la banca Montepruno segnala Ethical Balanced Conservative un fondo bilanciato globale sostenibile che investe in base a criteri etici sociali ed ecologici un fondo che durante l'emergenza covid nonostante il mercato abbia reagito negativamente alla pandemia ha mantenuto l'investimento soprattutto se si considera la modalità di accumulo tramite PAC l'ufficio finanza della banca Montepruno resta a completa disposizione per tutta l'assistenza del caso il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca vuole rendere obbligatorio il vaccino anti-influenzale per tutti i cittadini per il governatore i sintomi del covid sono simili all'influenza pertanto si rischia confusione da qui la proposta di obbligare i cittadini campani a vaccinarsi contro l'influenza un'ipotesi scartata dal sindaco di Santa Marina che propende invece per la libertà di scelta vaccino anti-influenzale obbligatorio in Campania per tutti a partire dai bambini fino agli anziani ad annunciarlo nei giorni scorsi il presidente della regione Vincenzo De Luca che invitava tutti ad adempiere all'obbligo il prima possibile il governatore punterebbe infatti a far sì che sin da ottobre tutti i cittadini campani siano vaccinati contro l'influenza in previsione di una possibile nuova ondata di contagi da covid-19 secondo quanto emerge la decisione di puntare sul vaccino anti-influenzale e si ricorda che il vaccino anti-covid ancora non è disponibile sarebbe finalizzata ad una più rapida individuazione di un possibile contagio da covid evitando quindi confusione secondo quanto dichiarato dal governatore Campano infatti se tutta la popolazione è vaccinata contro l'influenza sarà più facile distinguere eventuali contagi da covid e non confonderli per De Luca infatti vi è similitudine nella sintomatologia tra coronavirus e influenza questa è in sintesi la motivazione alla base della decisione non ancora effettiva di obbligare tutti i campani a sottoporsi al vaccino ed è questa anche la motivazione che secondo quanto emerge avrebbe spinto la giunta regionale ad anticipare di circa due mesi l'acquisto dei vaccini che secondo quanto dichiarato dal presidente della regione dovranno essere effettuati già a partire da settembre una proposta non da tutti condivisa particolarmente in riferimento all'obbligatorietà del vaccino a manifestare dissenso verso la proposta il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato che ha criticato l'ipotesi sottolineando come per una tale decisione bisognerebbe lasciare libertà di scelta alla popolazione a mio avviso scrive in una nota stampa il sindaco non è concepibile obbligare i cittadini campani a vaccinarsi deve esserci libertà di scelta sempre la vaccinazione antinfluenzale dovrebbe essere fatta in maniera del tutto volontaria come d'altronde è stato finora è giusto rispettare la volontà di tutti credo dichiara in conclusione che De Luca parli così perché è ben chiaro che ad ottobre sarà comodamente in pensione a casa sua non è questa una decisione che gli compete e andiamo a stanza dove nei giorni scorsi il sindaco Vittorio Esposito ha ordinato la posa di dissuasori di velocità in diverse strade cittadine a quanto pare in paese ci sono diversi punti critici in cui conducenti avventurosi tendono a esagerare automobilisti e motociclisti corrono lungo le vie di stanza il sindaco Vittorio Esposito ha intervenuto con un'ordinanza che porta novità su diverse strade comunali poste dentro e fuori l'abitato saranno installati dossi artificiali ha ufficializzato la decisione di ricorrere a tali accorgimenti per costringere i conducenti a guidare con prudenza e quindi ridurre il rischio di causare incidenti è istituito il limite massimo di velocità di 30 km orari sulle strade interessate dall'installazione dei rallentatori i tratti incriminati su cui si lavorerà si trovano in prossimità di posti molto frequentati da veicoli e pedoni e presentano restringimenti della carreggiata sono privi di marciapiede o banchina pedonale si tratta di piazza 24 maggio via piaggio piazza san francesco fontana vecchia via san vito e traversa di san vito strada san vito taverna il provvedimento si è reso necessario perché in paese si segnalano diverse condotte di guida avventurosa quindi l'amministrazione comunale si è vista costretta a intervenire affinché vengano rispettate concretamente le norme del codice della strada si è optato per i classici rallentatori di velocità gialli e neri in gomma vulcanizzata alti 5 cm che obbligheranno gli automobilisti ad un'andatura lenta per evitare danni a persone e cose i dossi verranno segnalati da appositi pannelli come previsto dalla legge forse creeranno qualche disagio all'inizio soprattutto a chi percorre i tratti interessati quotidianamente e dovrà abituarsi alla loro presenza ma la finalità è tanto pragmatica tutelare l'incolumità di pedoni ciclisti e degli stessi conducenti quanto nobile educare gli avventurosi al rispetto della vita propria e altrui è tutto per oggi grazie per l'attenzione e buon pomeriggio grazie per l'attenzione